Sei mesi di giunta in concludente, 180 giorni di idee confuse. La città, il risultato è che la città è ferma. E' una critica a tutto campo quella che il PD di Pescara muove alla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Masci nei suoi primi sei mesi di lavoro che hanno chiuso il 2019. Dal DUP ai tagli nel bilancio a sociale verde scuola per i democratici nella giunta di Pescara regna il caos e le poche idee confuse. Sul documento di programmazione urbanistica che disegna il volto della città nei prossimi anni per il PD la scelta di destinare l'ex cofa all'università prima e alla sede della regione Abruzzo poi è deleteria ribadendo la volontà di opporsi con tutte le forze a quanto contenuto nel documento al fine di riaffermare la vocazione turistica del lungomare tra il porto turistico e il porto canale contenuta nel DUP redatto dalla precedente giunta di centrosinistra. Il PD poi paventa anche il rischio di perdere i 12 milioni di euro dei fondi del masterplan per l'area di risulta. Il progetto infatti è in via di ripensamento dopo la mancata approvazione nella scorsa consigliatura. Manca questa capacità, queste idee, manca dove si vuole andare ed è una cosa davvero drammatica. L'opposizione, il PD è a disposizione per qualsiasi risoluzione che sia nell'interesse della città perché non c'è nessuna opposizione strumentale, demagogica o istruzionistica ma c'è bisogno di un'apertura e soprattutto di un'apertura fuori dal palazzo coinvolgendo le migliori energie della città per dare un grande contributo alle incompiute e alle grandi criticità che ancora abbiamo in questa città e di cui questa amministrazione non se ne occupa. Se pensiamo al porto che è una cosa fondamentale, all'aeroporto, all'area di risulta, alla città della musica e a tanti altri aspetti finanziati già con i fondi del masterplan messi a disposizione dall'amministrazione regionale di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso. Per quanto riguarda il bilancio, invece, si annuncia una dura battaglia in Consiglio Comunale. Ai dem non vanno giù i 300.000 euro in meno sul sociale, coperti con progetti di cofinanziamento che, secondo i consiglieri del PD, sono aleatori. Male anche sulla scuola, sul verde pubblico e sulla cultura, tutti temi che saranno oggetto di emendamenti da parte dell'opposizione di centrosinistra.